Ciao a tutti, sono Andrea Ripamonti e se mi seguite già sapete che parlo una decina di lingue. Di recente ho infatti scritto una guida su come imparare le lingue. Perché l'ho fatto? Perché mi piacerebbe aiutare tutti a imparare le lingue in modo efficace e divertendosi. Infatti, molte persone pensano che imparare le lingue sia qualcosa di complicatissimo, di difficile e più delle volte mi è capitato di incontrare persone che mi dicono mi piacerebbe sapere l'inglese, mi piacerebbe imparare il tedesco, però non mi metterei mai lì perché so già che sarebbe un fallimento in partenza. In realtà non è così, in realtà tutti noi possiamo imparare le lingue. Il problema è trovare il metodo giusto per farlo e quello non è facile, non è stato facile neanche per me. Infatti non ho imparato dieci lingue così da un giorno all'altro, ma anche io ho fatto tanti errori, tanta fatica per impararle. Anzi, mi ricordo ancora quando andavo a scuola, soprattutto all'elementare e alle medie, avevo un rapporto un po' complicato con l'inglese. È solamente al liceo che ho iniziato a piacermi e che ho iniziato a capire come impararlo e da lì poi sono passato anche in altre lingue. Imparare le lingue, infatti, se si conosce un metodo, è una cosa da ragazzi, un gioco molto semplice e può essere davvero divertente. Potrebbe diventare l'hobby di ciascuno di noi, se appunto sapessimo come fare. Per questo appunto ho scritto una guida che troverete poi anche nei commenti, nella descrizione del video qui sotto. E appunto se mi seguite sapete già che parlo una decina di lingue. Non mi seguite? Siete nuovi? Allora, innanzitutto, iscrivetevi al canale così almeno restate in contatto e potrete saperne di più sull'apprendimento delle lingue, in quanto questo è il primo di una serie di numerosi video in lingua italiana indicato apposta agli italiani per sapere come imparare al meglio, con quanto più efficace possibile, una lingua straniera. E poi date un'occhiata ai miei video che ho già uploadato in passato. La maggior parte sono in altre lingue perché il mio canale è nato soprattutto in altre lingue e solo di recente ho fatto anche qualche video in lingua italiana. Per cui, se volete sapere le lingue che parlo, potete ad esempio guardare questo video qui oppure anche questo, però il primo è quello, e appunto farvi un'idea delle lingue che conosco e del livello che ho. Chiaramente non parlo tutte le lingue alla perfezione, anzi, non giro a me, ma all'altro o meno anche la nostra lingua madre la parliamo alla perfezione. Per cui in realtà pensare di padroneggiare una lingua è una cosa impensabile persino nei confronti della nostra madrelingua. Per cui non è questo il punto. Il punto è imparare una lingua e saperci conversare in quella lingua, saper parlare con le persone che la conoscono, quindi con i nativi, e trarre quindi profitto a livello proprio umano, comunicativo, con la lingua che stiamo imparando. La maggior parte delle lingue che conosco non l'ho imparata a scuola. L'ho, allora, ho imparato a scuola, vabbè, l'inglese, il tedesco e lo spagnolo, e poi ho studiato all'università il russo. Le altre lingue invece, per esempio il rumeno, il portoghese, il brasiliano, il bulgaro, lo svedese, attualmente il greco, poi da poco ho terminato il francese, sono lingue che ho imparato da autodidatta, come ho utilizzato appunto la metodologia che vi voglio proporre in questa serie di video. Quindi per sapere come ho fatto, restate sintonizzati, perché di settimana in settimana pubblicherò nuovi video, in cui vi racconterò appunto la mia esperienza, vi darò i miei consigli per imparare al meglio una lingua, e non dimenticate però di lasciare un feedback, perché questa è la cosa più importante di tutte, discutiamo insieme su come è meglio imparare le lingue. Lasciate un commento qui sotto, ditemi quali sono i vostri problemi, i vostri dubbi, le vostre paure, oppure se avete anche voi dei consigli da dare a me o anche agli altri, fate pure. L'ideale infatti è che questo diventi uno spazio di conversazione per tutti gli amanti delle lingue. Ci vediamo presto, ciao!